Il ritratto di Antonio Laforgia, che fu sindaco di Bari dal 70 al 71, ora è esposto nella sala giunta del Comune. Un omaggio dovuto ad un uomo politico che si è speso tanto per la città e per la Puglia nei suoi vent'anni come deputato, ma anche come sottosegretario ai lavori pubblici e negli anni da consigliere IMSS. L'impegno più strenuo di Antonio Laforgia fu la difesa dei mestieri artigiani, patrimonio imperdibile della nostra terra, come ha sottolineato il giornalista Michele Cristallo, ricordando nella figura, nella cerimonia a Palazzo di Città. In tanti, con la loro presenza, hanno voluto testimoniare l'affetto ad Antonio Laforgia e ai suoi cari, tra loro la figlia Paola, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia. Precursore dei tempi, Laforgia insisteva sulla necessità che i nostri artigiani fossero efficienti e competitivi, che unissero manualità e fatturato anche per sopperire a storiche carenze infrastrutturali e logistiche del territorio. Proprio per colmarle, Antonio Laforgia si batte come componente della giunta di Confartigianato, come consigliere della Fiera del Levante e della Camera di Commercio di Bari e come presidente di Artigiancassa e della Banca di Credito Cooperativo. Un uomo impegnato eppure modesto, come ha ricordato un suo vecchio amico, l'ex presidente del Consiglio regionale pugliese, Pietro Pepe. Era una persona molto semplice, diciamo molto a modo, nel senso che era costumato, non gli piacevano le vanità, era molto tenuto, insomma non andava oltre perché era un uomo preparato, serio e quindi sapeva quello che diceva. Questo è stato il suo grande valore, parlare con cognizione di causa.